Valeria Bruni Tedeschi ed Anaïde Mostier sono le protagoniste di Gli Amori di Anaïs, film firmato da Charlene Bourgettoquet che arriverà nelle sale cinematografiche dal 28 aprile. È una storia d'amore, ma una storia d'amore in cui c'è nello stesso tempo un'attrazione fisica che in più per quanto ci riguarda non siamo di solito attirate dalle donne per ciò che ci stupisce, più un'attrazione intellettuale. Dunque questo è l'amore. L'amore è una parola, una bella, grande parola, ma anche vaga in cui cerchiamo sempre di definirlo, cos'è l'amore, cos'è l'amore, cos'è l'amore. Un film che racconta la vita con il prisma della leggerezza, come sottolinea Valeria Bruni Tedeschi, e che ha al suo centro il desiderio inteso nel suo senso più ampio. Una Valeria Bruni Tedeschi straordinaria in questa pellicola, che confessa di avere qualcosa in comune con il suo personaggio Emile. No, penso che sia una realtà, penso che c'è una cosa bella nel fatto di invecchiare, che io non pensavo perché ho molta paura, molta paura, molta paura, e poi piano piano, vabbè ci sono delle cose orribili, però c'è questa cosa molto strana che mi stupisce e che mi è arrivata da poco, neanche da un anno, una sensazione di grande libertà e di non paura. E questo lo vorrei veramente dire perché è una buona notizia. Grazie.